La riapertura del teatro comunale ancora non ha una data, il recupero sembra lontano e mancano all'appello ancora luoghi dove poter far cultura. Il teatro comunale è stato al centro di ritardi, questioni burocratiche, fallimento della ditta che si era giudicata ai lavori. Di qui un'interrogazione prodotta dai consiglieri comunali del passo possibile. È davvero inammissibile che la città dell'Aquila, centro nevralgico da sempre di un'intensa attività culturale e che vanta una tradizione teatrale come pochi in Abruzzo, sconti ancora il mancato recupero del suo presidio culturale più importante. A questo punto con un'interrogazione noi vorremmo far luce su quelle che sono le somme. Se ci sono delle somme mancante, oltre i 7 milioni che sono stati utilizzati, sarebbe da capire come sono state rimodulate queste somme. Se invece mancano ancora dei soldi, a questo punto è ancora più grave il fatto che il Comune dell'Aquila non abbia aderito ai bandi del PNRR. Laddove ci sono state delle iniziative proprio per il recupero strutturale, per l'efficientamento energetico, proprio per i teatri e per i cinema, per i luoghi culturali. La riconsegna era stata annunciata per il 2023 in occasione dei 150 anni del teatro, nonostante si sapesse che la dotazione economica non poteva abbastare. Ora si sa che il progetto è praticamente pronto per il completamento, ma il problema è proprio quello delle risorse, si apprende dal segretariato. Ci sono disponibili 8 milioni e 400, le servono almeno altri 5 come in Porto Lordo. Inoltre il progetto va aggiornato perché c'è stata una conferenza dei servizi e sono state fatte delle prescrizioni. La riconsegna nel 2023 dunque è pura utopia, l'unica speranza è riuscire ad avviare almeno il cantiere entro l'anno. Lo sforzo del segretariato è proprio questo, ma ci sono altri luoghi importanti che mancano all'appello nella ricostruzione della città. È chiaro che questa non curanza programmatoria è riferibile anche a tanti altri presidi culturali della città. Viene da pensare al Teatro San Filippo, che è stato recuperato strutturalmente dal 2017, nel nostro centro cittadino di cui non si sa più nulla, anche dello stesso auditorium del Castello, del Teatro Sant'Agostino, dello stesso Cinema Massimo. E fra tutti rimane sempre il problema di Palazzo Margherita, che è stato inaugurato evidentemente solo per scopi elettorali, solo per quella giornata, e ad oggi francamente non si sa ancora quando ci si potrà tornare. Grazie. Grazie.